Ok, cominciamo bene! Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video shopping! Allora, questo sarà un video che, per gioia, non di me sicuro, no sto scherzando, è un video che pubblicherò su YouTube, è un video shopping così anche le ragazze che tanto che non vedono il negozio, perché io li pubblico tutti i giorni su WhatsApp, sono super attiva, potranno dare un'occhiatina a quello che c'è in negozio, questo è un video di sconti ignoranti prenatale. E scusate l'aspetto, non pensavo di farlo, però ho detto dai facciamolo. Così vi faccio vedere un po' di sconticini, ho bisogno di liberare un po' qua gli spazi, perché sono piena di vestiti e un sacco di nuovi arrivi, quindi ho detto meglio farlo subito così, poi anche le altre ragazze possono vedere, possono essere invogliate a entrare a fare parte del gruppo e tutte quelle menate lì. E quindi non guardatemi, ma sono acqua sapone e follia. Partiamo subitissimo con lo shopping, parto con un po' di sciarpa che ho qua per farvi vedere, prezzi super. Allora, sciarpa d'anello blu elettrico lavorata, così, bellissima, viene 1,50 euro, non so neanche dove metterla per, io la butterò nel camerino di qua, così poi le recupero quando arrivo oggi, sarò felicissima. Non guardate come faccio, ma vabbè. Questa invece è una sciarpa d'anello panna con dentro dei lurex dorati, molto carina, 1 euro ad anello anche a lei. Vedete come si fa a metterle via? Di qua, direte. Dopo ho il mio folletto che mi prende le cose in mano. Vabbè, lo so, sono pazza, lasciate perdere. Questa invece è una sciarpa classica, molto carina, beige. Probabilmente in lana, ma non si sa. Guardate come sta bene anche sui cappottini. E viene 2 euro. Altra sciarpettina, questa qua, che è una specie di poncetto di dea grigio, in lana, 2,50 euro. Condizioni perfette. Altra sciarpa, questa mi piace un sacco, la vedo sempre che esce dai cestini. E questa qua, che è blu e bianca, puntinata, molto carina, lunga, con la parte in fondo fluo. E viene 2 euro. Ottime condizioni, sembra nuova. Questo non c'entra niente perché era nelle sciarpe, che è un capo assurdo, molto bello, tra l'altro, color malva. È una sorta di cash coeur, SM. Non vi spiegherò in questo momento come funziona, ma l'ho visto indossato, è molto carino. E viene 2,50 euro, anche lui, molto morbido. Altra pashmina, questa qua, azzurrina. Classica, bellissima. Viene 4 euro. Ed è proprio una sciarpa classica, un bellissimo colore. Questa ha sui cappotti grigi, neri, camel, sta da Dio, proprio portata in maniera super classica. Ok? No, vabbè, non dovevo cominciare con le sciarpe. Perché sapevo che il video sarebbe finito malissimo. Questa è una berrettina, invece, con delle scrittine. Viene 50 centesimi, nera, bianca, bla bla bla. Via. E questo, invece, è un altro collo. Questa volta è un grigio argentato, molto festivo. E viene 1,50 euro. Ma io continuo con le sciarpe. Ne ho qua 50.000. Questa nuova arriva, in un attimo, arriva l'estate, la primavera. Dopo io non posso più farvele vedere. Questa, invece, è un poncetto molto bello. Viene 4 euro. Cioè, io vi faccio delle cose in maniera stupidina, ma sono cose belle, davvero. Come mi ho potuto venire in mente di fare una cosa del genere. Altra lampone berrettina, praticamente nuova, molto carina. Viene 1 euro. Un po' lunghetta. Questa è rossa. Viene 50 centesimi. Molto natalizia. Andiamo. E questo, invece, è un coprispalle di Eclipse, taglia S. Niente po' di meno, che è a rovescio. Di quelli da mettere, tipo, se avete qualcosina di un po' leggero scollato, li mettete sopra. È molto bello, poi, è di Eclipse. Noi lo facciamo vedere così, ma è un capo da boutique, questo. Ed è in viscosa al 59%, taglia S. Praticamente è un coprispallino. Ok. E viene 2 euro. Ma niente, anche se è firmato così, a noi non ci interessa. Faccio vedere qualche capo d'abbigliamento, se no mi prendete per pazza. Allora, maglioncino Terra Nova. Taglia S, tutto smelangiato. Fatto così. Morbidissimo. Qua abbiamo collezioni di tutti i tipi. Super, super carino. Ve lo metto a 3 euro. Le condizioni sono perfette. La S è una S morbida, perché viene già morbido. Poi, questo ha anche una taglia S abitino. S morbido, 40. Fatto così, maculato. Ve lo metto a 2 euro. Bellissimo tessuto. Uno svuoto armadio. Bello questo, ragazzi. Se filatevi di me che è una cosa molto carina. Questo è un nuovo arrivo, che è una felpa di berska lunga, che fa anche da abito da mettere con... È una M. Non è una M esagerata. Da mettere anche con gli anfibi. Ha tutte le borchie qua. E viene 3 euro e 50. Il tessuto è proprio fatto così, diciamo, un po' sfumatino. Poi, devo stare attenta anche a quello che non vi ho già fatto vedere. Perché le altre ragazze del gruppo hanno già visto un bel po' di cose. Quindi devo stare molto attenta a quelle che vi mostro. Però, anche se sono cose doppie, tanto le scontiamo. Quindi, stava a san dire. Abitino a tunica, taglia unica. Questo ve lo metto a 2 euro. Oddio. E va bene fino a 46. Molto carino, perché ha righe nero camel. Le condizioni sono ottime. Poi, scontiamo anche questo abitino qua, che è una S. Piccolino, eh. Questo 38-40. Un tubino, tutto drappeggiato. La cosa bellissima è questa apertura qua davanti. Molto elegante. Nella sua semplicità. E come stagione, potete metterlo in qualsiasi tipologia di stagione. Viene 2 euro. Questo. Come mai tu sei finita lì? Allora, questo invece è di appartamento 50. È un cardigan, taglia S. Piccolino anche questo, bellissimo. Tutto traforato. XSS. Guardate che meraviglia. Fatto così. E viene 6 euro. Appartamento 50. Veramente, non so stufa di vedere questo piumino. Vi prego, qualcuno si sacrifichi per l'umanità. Taglia media, 42-44. 50 centesimi, piumino argento l'urex. A mettere anche solo per far uscire, per scendere il cane, quando andate a portarlo a farla pipì la sera. Vi prego, anche questo. Qualcuno si deve sacrificare per chi si stufa. Questo è uno svuoto armadio ed è stupendo. Corrisponde a un 44-46. Adesso lo vedete alla luce del sole, non potete più dire di no. Era mio, quindi sono di parte. La manica è anche un po' così. Ve lo metto a 2 euro, 10 centesimi. È bellissimo, il tessuto è stupendo. È tipo un jersey morbido. Cioè, sacrificatevi per l'umanità. Sacrificatevi anche per l'umanità per questo blazer di Gianfranco Ferré. Taglia 40. 40-42 massimo. Che vi metto a 6 euro. È di Ferré. Vintage. È originale. E mi arresteranno per questi prezzi, mamma mia. Poi, anche questo, volevo farvelo vedere che sono sicura che apprezzerete. Qua c'è un omino da solo. Scusate. Aiuto. C'è un omino da solo. Io sono sempre peggio, quindi... Cusciamolo qua, tra l'altro vintage enorme. Questo è un cappottino. Made in Italy. Allora, taglia unica. Ma io consiglio fino a 44 morbido. Guardate che bello. Così, tipo in lana. Con i manicotti di pelo. Bellissimi. E anche il collo. E questo qua viene 15,90. È appena arrivato. Foderato e tutto. Molto bello. Grigio melangiato. Fa un'ottima figura. Oddio. Indossato. Poi, siccome le mie ragazze mi chiedono sempre i capi neri, adesso ve li faccio vedere la luce del sole, che si vedono un po' di più. Cappottino vintage. Così, a caso. Bellissimo. Con il manicozzo rifatto, non so in che modo. 44, anche morbido. Manicozzo così. 15,90. È un vintage. Molto probabilmente in lana. Facciamo un po' di sconti. Questo qua è un abitino delle stick che va bene. Ha un 42, anche morbido. Tutto in pizzo. Vedete, fatto così. E viene 2,50 euro. È bellissimo. Se avete il 42, fateci un pensiero perché ne meritava. Meritava. Anche questo merita di essere visto perché è sceso. Taglia L, questo bel gilet. Adesso ve lo faccio vedere. Vintage. Ha gli inserti qua in... Vedete, in... Come si dice? In uccinetto. 1,50 euro. Molto carino anche da portare aperto. Anche se siete più slim. No problem. Abitino stile Mercoledì Adams. Questo qua nero. Taglia unica. Molto carino. A costina. Conduzioni perfette. Ve lo metto a 3 euro, ragazze. Leggings bondage. Taglia 42. Van bene anche a 44 questi. Sono neri di Primark. Che hanno tutto il corsetto. Guardate che sexy che sono. Molto belli. Vengono 2,50 euro. Così. Anche questo pantalone qua. Che è un XS S. Massimo fino a 40. New collection. Vita alta nero. Ve lo metto a 2 euro. Molto bella sigaretta. Vita super alta. Tutto svuota tutto questo. Altro leggings nero. Di Shane. Taglia S. Europea 36. E un 40-42. Viene 2 euro. È un pantalone. Nero molto easy. Fatto così. Poi. Sono già stufa. Altro cappotto meraviglia. Questo qua è vintage. 44. Mi è arrivato. Mi è arrivato settimana scorsa. Classico. Bellissimo. Ve lo metto a 25 euro. È stupendo. Su 44 è molto montone. Fa una bellissima figura. Camicia crop. Nera. Questa la portare anche come giacchino. Guardate che bella. C'è un po' di tutto e di più. SM morbido. Dietro c'ha le scrittine. E viene 4 euro. È un capo molto particolare. E mi ringrazierete per la primavera. Maglioncino famigerato di Tezenis. SM. Di questi qua. Che abbiamo visto in tutte le salse possibili. E immaginabili. Tutto traforato con la parte qua di velo. Viene 1 euro e 50. Le condizioni sono ottime. Adesso mi devo spostare però. È probabile che voi mi vediate un po' storta. Sì, è molto probabile questa cosa. Ma non era mia intenzione essere storta nel vostro schermo. Però così è andata. Qua faccio vedere due o tre cosine veloci. Maglioncino cardigan. In realtà questo è bellissimo. Colore becco d'oca. Taglia media. Vintage ovviamente. Viene 9,90. Guardate che meraviglia. È un pezzo vintage. Un pezzo super. Questo è anche super carino. Invece ha una SM crop. Super festivo. È un maglioncino lurex petrolio. Cortino. Bellissimo. SM. E viene 6,90 euro. Ed è l'iSeek. Che è un brand qua locale. Ve l'avevo già spiegato. Questo abitino ve lo sconto della new collection. Taglia unica fino a 44,46. Tutto giallo con i fiori. Esplosione floreale. Super primaverile. Sono quei vestiti da mettere su. Li avete addosso. Non dovete più preoccuparvi di nulla. Ve lo sconto a 2,50 euro. Camicia vintage bianca taglia 42. Bellissima con tutte le rouge. È un 42 morbido. Va bene anche a 44. Guardate che meraviglia. Fatta tutta così con tutti i fiori. Ve la metto a 3 euro. E non so. Prezzi così. Non li trovate neanche a cercarli. Anche questa camicia taglia S. Che è super bella. Ve la metto a 2 euro. Qualcuno si sacrifichi. Perché è un pezzo davvero spettacolare. Vabbò. Qua abbiamo del giallo blu. Molto stile Lidl. Della Lumina. Camicia taglia unica. Fatta così sblusata. Fino a 44 morbido. Viene 2 euro. Anche lei. L'abitino questo qua che era il mio. Fino a 44. Giusto io posso comprare cose di questo tipo. Ve lo metto a 2,50 euro. È in condizioni assolutamente perfette. Poi abbiamo questa camicia qua. Anche volevo farvi vedere. Della Maison Scott. Anche questa è una taglia S. Rosa antico. La metto a 3 euro. Tessuto morbidissimo ragazzi. Bellissimo. Poi. 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 Questa che io adoro follemente per quanto concerne il colore e la forma. È una bella camicia taglia unica fino a 44 anche 46 fatta così. Ve la metto a 2 euro. Bellissima. Anche la metterei sotto i maglioncini adesso. Qua non c'è più posto per le cose. Questa è un Terra Nova XS. È un gile lungo. E viene a 2 euro. Si può portare anche come abitino con sotto degli shorts. Comunque resta un XS. Molto molto morbido. Poi non è possibile che sia ancora qua anche questo blazer da boutique. Adesso lo scontiamo di brutto. Perché mi sono stufata. Questa tra l'altro non ci sta. Non ci stai. Non ci sta. Mannaggia. Speriamo che qualcuno la prenda. Taglia 2 di Maison Scotch sempre. Cioè. Questa giacchina qua. Io ve la metto a 2 euro e 50. Questa è da boutique ragazzi. Cioè. Non potete lasciarla qua. Perché costerà 80, 90, 100 euro. Miss Miss ha anche questo bel giacchino. Da scontare. XL. Quindi siamo su 46. Anche morbido. Anche 48. Giacchino in tweed. Bellissimo. Ve lo metto a 6 euro e 50. Le condizioni sono perfette. Sono tutti pari al nuovo. Che ve devo dire. Dobbiamo spostarci. Mi sono spostata nell'area proibita. No. Sto scherzando. Continuiamo. Un po' di rosso. Che siamo sotto Natale. Vince 8. Taglia unica. Bellissimo maglione rosso. Con tutti gli strass sul fondo. Questo va bene fino a 50. È morbido morbido. Molto molto bello. Viene 7 euro ragazzi. Le condizioni sono perfette. Vedo del tartan. Vediamo. Gondellina tartan. No è uno shorts. Scusate. Questo è un 44. 46. Shorts tartan. Molto carino. 6 euro e 90. Ricordate che è in condizioni perfette. Vi sconto anche questo qua. Taglia unica. Bellissimo. Che era tornato in vendita. Fino a 46. Abitino rosso. Midi. Gonna ampia. Oh mio dio. Tu stai tranquilla qua. Che nessuno ti ha chiesto nulla. Fiocchino qua. Bla bla bla. Molto bello. Ve lo metto a 6 euro ragazzi. Scontato. Qualcuno si sacrifica. Perché è veramente bello. Indossato. Anche questo qua. Tipo di cingiglietta. Pelucioso. Che piace tanto a me. È un XL Men. Calliope. Quindi questo da uomo. Compratelo per i vostri amorosi. Mariti. Se lo volete. Se volete natalizi. E peluciosi. Così quando vi accoccolate. Siete super. Super confortevoli. Ve lo metto a 2 euro. XL da uomo. Quindi. XL uomo. Non è un XL esagerata. Sacrificate i vostri. Mariti. Per un po' di peluciosità. Da tenere addosso. Questo è un bellissimo pantalone vintage. Stavo cercando di capire la taglia. Mi è arrivato nuovo. È un 44. Ho segnato. Però secondo me è più un 42. In caso ve lo misuro. Vita super alta. Rosso. Elegantissimo. Viene 13 euro. È una roba spettacolare. Quindi tra il 42 e il 44. In caso ve lo misuro. Perché è spettacolo. E l'unica cosa. Non sta attaccato. Quindi lo odio. Solo per questo motivo. Un altro cardigan vintage. Molto bello. Anche qua siamo sulla taglia 44-46. Questo qua azzurro. Poi lo potete portare anche over. Se siete più magrettine. Ha tutte le perline. E i bottoni super bellissimi. E viene 9 euro. Meraviglioso. Vi sconto anche il mio genius della vita. Di Calzedonia. Stupendo. Era una M. Secondo me. Non mi ricordo più. Comunque va bene sul 44. Questo. Stupendo. Stupendo. Ve lo metto a 6 euro e 90. Cioè. Messo una volta. È nuovo. Poi. Posso andare avanti. Posso andare avanti 30 anni. A farvi video. Con tutta la roba che c'è qua. Comunque. Maglioncino. Questo è un XS. XS Massimo S. 40. 1 euro. Così. Molto carino. Anche lui. Però mi ha stupato. Non lo supporto più. Questo è un altro maglioncino di Marina Yotching. Questo è una taglia 44. Anche morbida. Grigio. Nuovo arrivo. 6 euro. Molto carino. Poi. Poi di G. Vi vorrei anche far vedere. Abitino Combi Pell. Taglia M. 42, 44. Ma culato. Molto carino anche questo. Viene 2,50 euro. Un svuoto armadio. Aiuto. Io non ho più spazio per... Non so se mi capite per... Per prendere le cose. Maglioncino grigio. Taglia unica. 44, 46. Non è vero. Cioè. Sto scherzando. Ovviamente. È un XS di H&M. Cioè questo vi pare un XS. Cioè. È più grande di me. Va benissimo. Anche M. È super morbida. Viene 2 euro di H&M. Ed è tipo grigio. Un po' melangiato. Poi. 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 Questa è da boutique. Merci Italia. Va bene fino a 44. Non esagerato. È un bomber in velluto. Ciniglia. A tre quarti. Ve lo metto a 6 euro. Questo è un affarone perché vi assicuro che è da boutique. Quale delle cose super fighe. I miei clienti sanno di cosa parlo. E adesso tendo. Quindi. Assolutamente. Altro bomberino. Questo qua. Che è una taglia 42. 44. Blu. Ve lo metto a 3,90 euro. Semplice. Carino. Per tutti i giorni. No problem. Tunichetta di mango. Non ce la faccio più a vederla qua. Taglia S. Blu. Bellissima lei. Se la vedete indossata vi innamorate sicuro. Un euro. Condizioni perfette. E scontiamo anche la giacca di Pinko. Blazer. Blu. Taglia 40. La sua memoria. Ve la metto a 10 euro. Pinko. Taglia 40. Blazer. Blu. Qua fatela fare. Ve l'ho detto. Prendi gli sconti pazzeschi. E anche questo qua. Pantronella tutta uguale al mio. Taglia M. Avevo anche il mio che ho venduto. Blu. Largo. Con la banda. Così. Con i cuoricini. E anche questo mi sa. Che è quasi nuovo. Il mio era etichettato. Viene a 5 euro. È stupendo ragazze. È stupendo. E anche questo bello abito vintage. Taglia 42. Blu. C'ha anche la sua cinturina. Meraviglioso. Viene a 5 euro ragazze. È stupendo. 42. È abbastanza morbido. E qua sto finendo il tempo. Già, già. Questo copri... Non so come chiamarlo. Copri spalla. Bellissimo anche questo. Leggerissimo. SM. Fatto così. Guardate che particolare. Viene 4,90. È tipo vintage secondo me. Poi. Felpina SM Paris Boutique Lunga. Più S che M. 50 centesimi. Condizioni perfette. Perfette. Fai di vederla qua. E poi vediamo magari due paia di jeans. Ho paura a toglierli. Che non so cosa trovo. Non si sa cosa si trova qua nei jeans. Quindi no dai. I jeans li facciamo un'altra volta. Perché non me la sento. Vediamo qua. Se ho qualche tacco spalla. da farvi vedere. Questo piumino qua. Allora. Taglia M. Bello morbido. Guardate che meraviglia. Un po' asimmetrico. Tutto peloso qua. Bellissimo. Pelliccetta di pelo sul... Quindi questo è un 44. 42-44. Con tutto il pelo qua. E questo qua. Ve lo sconto a 12,90. 12,90. E basta. Direi che possiamo finirla qua. Se volete altri video shopping. Da vedere. Scrivetemi. Che ve li preparo. Perché io li faccio sempre. Questo è di lana. Lanetta. È un abitino. Fatto così. Viene 2,50 euro. Guardate che carino. Se volete video da vedere. Anche questi pantaloni. SM. Blu. Questi sono un po' leggerini. Vengono un euro. La cosa particolare. Bella. Che hanno la banda. Così lurex. Vanno bene fino a 44 questi. Dicevo. Se volete vedere altri video. Me lo scrivete. Che io ve li preparo. Perché li faccio sempre per WhatsApp. Quindi. Anche questo qua. Di Esmara. Lungo. Taglia S. Dice. 38,40. Maglioncino lungo. 50 centesimi. Così. Tipo. Arighine. E io ve li preparo. Se avete piacere a guardarvi. Volentieri. Assolutamente. Questi sono di Golden Point. Anche questi sono una S. 40. Massimo taglia 40. Blu. Gessati. E vengono 2,50 euro. Sono molto carini. By Golden Point. Pantaloni Golden Point. Costano l'ira di Dio. Eh sì. E anche questo cappottino blu. Taglia 42. Morbido. È un cappottino cardiga. Viene 3,90 euro. Molto carino. L'affa. Adesso devo andare perché non ho più memoria. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi abbia fatto compagnia. Ho qua 500 milioni di vestiti da farvi vedere. Faccio vedere anche questa borsa in pelle. Poi basta. Giuro. Beige. Che voglio scontarvi. In vera pelle. Guardate che bella. È una shopper in pelle. Da portare proprio così. Dentro c'è scritto pelle made in Italy. Tutti i suoi scompartimenti. Il bottoncino. E la pushettina all'interno ovviamente. Non si vede. Pensavo di sì. Ok. E questo avrà sconto a 6,90 euro. A vera pelle ragazzi. Dove trovate questi affari? Non li trovate da nessuna parte. E anche questa cinturina. Perché ce l'ho anche uguale. Che è di tank. Taglia prima. Quindi è una S. Da portare anche a vita alta. Guardate che bella. Tutta così. Tutta in cavallino eco. Ce l'ho io identica. Spaccata. Praticamente viene 1,50 euro. E niente ragazze. Dicevo. Se ci tenete a vedere queste tipologie di video. Se vengo di giorno. Di mattina. Ve li posso fare. Perché poi dopo. La sera è un po' più buio. Quindi li faccio per Whatsapp. E altro pantalone. Altro cappottino. Bersca taglia S. Ma io vi faccio vedere anche questo. Che è un po' a uovo. S morbida. Guardate che bello. Tipo in bouclé. Che vi metto a 12 euro. Tutto in bouclé. Bellissimo. E vi sconta anche quell'altro. Oddio. L'avete già visto parecchio. Poi basta. Giuro. Questo. Che è un S di Bersca. Fatto tipo anche questo bomber lungo. Viene 2,50 euro. S morbida. Va bene anche M. Bellissimo tessuto. Dicevo. Se volete appunto vedere video. Scrivetemelo nei commenti. Io cercherò di farli. Quando vengo giù la mattina. Anche se sono sempre in queste situazioni. Perché poi mi preparo. Per il pomeriggio. Con la maturazione spirituale. E però vavi tanto a voi. Vi interessa vedere i vestiti. Non è che vi interessa vedere come sono fatta io. Bello anche questo ragazze. Vintage. È un cardigan. Guardate che meraviglia. Cardigan poncio. 4 euro ragazze. Bellissimo. Bianco e nero. Buona. Speriamo di liberare un po' di omini. Perché ho bisogno di fare spazio. Quindi sto facendo questa cosa per questo motivo qua. Guardiamo anche questo qua blu. Taglia M. Vintage. Dianese. Cappottino. 5 euro. Doppio petto. Su 44. Perfetto. Pazzo ragazze. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.